Trek cerca di essere realista di sicuro il regno del fuoco è il migliore la mia stanza in un vulcano inoltre noi siamo i migliori in qualsiasi cosa qualsiasi siamo riusciti ci siamo riusciti davvero bravo puoi spostare mucchi di terra vorrei ricordarti che la tribù del ghiaccio ha elementi più brillanti del pianeta non pensi che la nostra mente batta il vostro braccio ti rivolgiamo con noi a deboli gorniani usate mettere in discussione l'esistenza di lord voidus sottomettetevi al potere del tenebroso signore delle tenebre eron vieni giù da lì ragazzi ci siete cascati ho detto sottomettetevi voi o no e io ero come ci hai insegnato della roba magica assolutamente pazzesca no riff la tua tribù non è la più forte la tribù della roccia vince ogni torneo di lancio delle rocce ogni torneo di sollevamento delle rocce ogni torneo di spinta delle rocce ogni torneo di draeno delle rocce perché tu sei sempre cosa è meglio fare e quando il giorno tornerà i regni saranno inghiottiti dall'oscurità darkon oggi è il giorno in cui gorme diventerà nostra resta qui la resistenza è inutile a oggi ormai tu appartieni all'oscurità no io appartengo solamente alla mia famiglia gormiani dateci subito la elester o devo venire a prendermelo da solo ho a disposizione tutta l'energia omega che voglio niente potrà fermarmi chi è lo zoccone adesso fin quando le le star non ritornerà nella torre voi dus potrà far breccia nello scudo di luce e i dark and continueranno a tornare i bracciali hanno scelto voi guardiani il destino di gorm ora è nelle vostre mani gorm infine è salva ed è soltanto grazie a voi guardiani l'eclissi ma io non sono pronta no 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 d'accordo la luce sta ancora alimentando l'ele star ma torre cosa diceva la profezia esattamente grazie torre il ritorno delle tenebre l'arrivo dei guardiani e finché saremo una famiglia la luce splenderà per sempre dormiti dormiti